Dopo lo stop e con i trasferimenti per Arbatax è arrivato lo stop anche per la tratta Civitavecchia Cagliari. Così la Sardegna rimane sempre più isolata. C'è bisogno di ripristinare la tratta, dichiara così il Presidente Musolino, in modo di garantire a passeggeri, lavoratori e autotrasportatori quel diritto fondamentale qual è la continuità territoriale marittima. L'interruzione a partire dal 13 di settembre della linea di collegamento con Cagliari è sicuramente una notizia preoccupante che fa il paio con la già avvenuta interruzione a giugno 2021 del collegamento con Arbatax. Civitavecchia storicamente ha sempre rappresentato il porto di continuità territoriale sicuramente con la Sardegna. Il fatto che in questo momento si rischi di perdere il collegamento diretto con Cagliari significa vuoto per pieno che questo porto rischia di perdere 120.000 passeggeri e 25.000 mezzi pesanti, quindi con ricadute significative anche sotto il profilo occupazionale, oltre che ovviamente come ricordavo prima con ricadute significative per i sardi che si trovano ancora di più e ancora una volta isolati. Ho scritto al Ministro venerdì, io sinceramente pensavo di non essere l'unico, mi auguravo che anche sul lato sardo forse qualcuno si sentisse di dover intervenire. È chiaro che ci sono delle complessità, è chiaro che ci sono delle situazioni più ampie che devono essere considerate, però non si può pensare di eliminare da un giorno per l'altro una linea del genere per ovviamente tutelare la libertà di mobilità dei nostri concittadini sardi, ma soprattutto per evitare di aggiungere un livello di difficoltà a questo porto che con molta fatica, molto impegno e molta dedizione da parte di tutti sta cercando di ripartire e di ripartire con slancio. Quindi chiediamo ovviamente al Governo nazionale di farsi carico di questa situazione, che è una situazione che riguarda sicuramente Civitavecchia e la Sardegna, ma che è un problema ovviamente di tutto il Paese. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo dato la piena disponibilità per quanto di competenza a fare la nostra parte, ci auguriamo che lo facciano tutti.